A Fico tutti giovedì sera c'è la possibilità di fare un aperitivo in mezzo al frutteto, un'occasione unica per divertirsi e rilassarsi lontano dalla calura cittadina. Sentiamo Maria Elena Mele. Un bicchiere di vino rosso, uno di bianco e perché no, la birra e il cocktail. Nello spazio del frutteto di Fico è un via vai di bicchieri e piatti ricchi di prelibatezze. In tanti infatti hanno scelto di trascorrere un giovedì sera per degustare prodotti tipici proposti dall'Aperi Fico del Food Park e godersi il fresco in un momento in cui le temperature sono davvero alte. Un aperitivo dove si può mangiare scegliendo tra le varie proposte degli operatori presenti a Fico, quindi dell'eccellenza, non parliamo delle solite patatine o delle solite tarallini. In più lo si può fare in una location esclusiva come il nostro frutteto e quindi una vera e propria oasi dal caldo che avvolge la città nelle state bolognesi che conosciamo bene. La location scelta è unica in quanto viene abbracciata da un frutteto mediterraneo composto tra albicocchi, ciliegi peri, cespuglie e prati verdi, i tavoli con sedie oppure balle di paglia che regalano quell'atmosfera particolare, una soluzione ideale per regalarsi un aperitivo nel verde pur restando in città. Gli altri appuntamenti di Fico Estate sono invece il giovedì come detto da Perifico, il venerdì griglia e balla, si parte con una grigliata sotto i nostri alberi e si finisce poi per scatenarsi su una delle nostre due piste, latino e commerciale, sotto la nostra tettoia a fianco al frutteto. Il terzo appuntamento è quello del sabato con il nostro immancabile Ficnic. Che accoglie famiglie amanti di aperitivi bucolici, tra cessini di vimini, le classiche tovaglie a quadretti e ovviamente uno sfizioso menù da godere sul prato accompagnato da un buon calice di vino.